Allora ragazzi, su un quaderno a righe facciamo nella copertina l'intestazione, che in francese si chiama en tête. In questa intestazione metteremo cahier, che vuol dire quaderno, cahier de français. Che vuol dire di francese, français. Poi metteremo nom, e qui dovete mettere il vostro cognome. Prénom, e qui dovete mettere il vostro nome. Class, dovete mettere la vostra classe, che in francese è première. B, prima B, e poi école, che vuol dire scuola. E voi metterete istituto comprensivo Rapallo. Sappiate che la scuola media in francese si chiama collège. E che non è il collegio, ma è proprio la scuola media, che in Francia dura quattro anni, quattro ans.